Don Cono, la sua parrocchia ha la possibilità di ospitare questa bellissima mostra che è stata fortemente voluta alla diocesi di San Marco Argentano Scalea dal nostro vescovo che ha scelto proprio di farla qui a Scalea. La scelta è stata chiaramente turistica e per emancipare anche un tipo di turismo più legato anche alla vita spirituale, poiché Scalea vive di questo entusiasmo ancora, quest'anno poi forse l'afflusso è stato straordinario. E quindi il vescovo ha voluto che nelle tante proposte spirituali che comunque le comunità vivono, propongono, ci fosse anche questo prezioso incontro con la parola di Dio. Ed è un incontro orientato a tutti, quindi non solo ai credenti, perché la mostra vuole avere un taglio prettamente culturale e ingloba anche testi, volumi di altre tradizioni cristiane e anche ebraiche. Quindi si apre a tutti coloro che hanno nella Bibbia il loro punto di riferimento.